ben tornati a tutti ragazzi e ragazze oggi nuovo video relativo a trust watch l'app che rivoluziona l'autenticazione degli orologi di lusso la passione per l'orologeria di lusso è in continua crescita ma con essa aumentano anche i rischi legati all'acquisto di falsi e trust watch nasce come una soluzione innovativa per affrontare queste sfide questa nuova applicazione basata sull'intelligenza artificiale rivoluzionerà il modo in cui appassionati e collezionisti verificano l'autenticità dei loro preziosi orologi panoramica dell'applicazione trust watch trust watch è un'applicazione progettata per fornire un servizio di autenticazione affidabile e facilmente accessibile per l'orologeria di lusso utilizzando avanzati algoritmi di intelligenza artificiale l'app è in grado di analizzare le immagini degli orologi e determinare la loro autenticità con un alto grado di precisione l'obiettivo principale dell'app è di costruire una piattaforma di fiducia per i collezionisti e i compratori di orologi di lusso creando al contempo una comunità appassionata e coinvolgente l'ai dietro trust watch per quanto riguarda la tecnologia che è alla base di trust watch vediamo che è stata implementata sfruttando il machine learning siamo nel campo della computer vision dove attraverso l'allenamento di migliaia di immagini il modello ha imparato a riconoscere i vari orologi falsi da quelli veri una ai addestrata anche per scartare immagini che non sono degli orologi permettendo in questo modo di ottenere un risultato migliore nell'output quando si caricano immagini che sono effettivamente di orologi di lusso il data set di trust watch il cuore pulsante di ogni sistema basato su ai è ovviamente il data set una serie di dati e file che compongono la struttura sulla quale il modello è stato allenato che in questo caso è composto da migliaia di immagini data set costruito da zero dal team di hawk and tech grazie a queste informazioni e dopo un allenamento intensivo sugli stessi ecco che l'output con i vari pesi è diventato il motore che fa girare questa esclusiva applicazione permettendo di gestire ben sette brand diversi ed oltre 400 modelli diversi di orologi di lusso come funziona trust watch il sistema trust watch che nasce come sistema multipiattaforma e quindi accessibile da qualsiasi dispositivo permette di caricare un'immagine dell'orologio per avere risultati migliori bisogna caricare l'immagine del quadrante con tutta la ghiera dell'orologio ed in pochi istanti è possibile controllare il punteggio di autenticità il punteggio va da una scala da 0 a 1 dove 0 rappresenta il punteggio inferiore e quindi non è autentico e dove 1 ossia 100 per cento rappresenta il punteggio massimo se è autentico o falso in questo modo e con queste percentuali si ha un primo livello di autenticazione conclusioni trust watch rappresenta una svolta significativa nel settore degli orologi di lusso offrendo soluzioni innovative per l'autenticazione e la costruzione di una comunità appassionata con funzionalità avanzate un chiaro piano di crescita e un robusto modello di business trust watch è pronta a diventare il punto di riferimento per i collezionisti e di vari appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo se sei rimasto affascinato da come la blockchain ed nft stanno trasformando il mondo e vuoi saperne di più non puoi perderti questo video esclusivo clicca subito per scoprire di più su questa rivoluzione e rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze risorse e innovazioni nel settore 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 Grazie a tutti.